guarda il nuovo drone occhio ok porta pulito uno dietro scudo posso farlo con lo scudo no non posso farlo vai fallo non ce l'ho più non più non più le white ha fatto white una chi c'è da perciare la fa se troppo c'è troppato kids come se troppato kids da ce l'ho aiutando sto plantando in a ancora molto white perché la sua info ma vuoi morire c'è un hp su white calma calma di cannes sta di te mirko la cam ok no poi il giro mi so no no è in server sotto c'è sempre lì no sta passata scale scale c'è a 5 hp dismal vi lascio il drone raga buono va bene va bene va bene il drone blu un attimo e c'è il pesto è l'ho visto l'ho visto l'ho visto fatto uno è a destra destra che te lo copro io anche a sinistra io buona guarda uno drone non posso dronare io sto su pillar è uno site 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 che swing lo trovi davanti luigi adesso ok breach anche il back oh è sopra è sopra è sopra si è troppato laundry vado la su planta è su main no info dove è qua pin 4 pin 5 fisso dietro la porta ti picca garage garage porta garage vengono si stanno rappellando fatto uno garage sto male c'è uno sledge uno è rappellato games nooo perchè uno è rappellato games uno è rappellato master per la gente non drone boh questo non mi ha guardato col drone e si lamenta pensa un po' oddio che è cazzo è fuoco in trincea uno è finestrona stai scherzando mi sono cagato in mano io ero in armory ma come l'hai preso dopo white lo sapevo white ok basta piccarlo fatto 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 c'ho la strat finale sound è sopra è sopra è sopra mi flasha flashato flashato occhio è fuori fuori a sinistra ancora dimmi se è ancora là oh li sto spostando il drone no 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 pilar pilar knock 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 troppata fatta? morta morti due questi non aprono gli occhi dai raga ma non vedo nulla fuori blu sa ancora oh ed insight insight l'avevo sentito l'avevo sentito ve lo stavo per dire ho fatto ma raga ma ce n'è uno insight mi sono stato zitto l'ho pensato ma è buona 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 perché sentivo il sound e dicevo ma c'è cazzo è in pilar praticamente ecco non può essere lui pensa a teo buona 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 bravo io ce n'è uno in armory ragazzi trophy pulito trophy clear sono armory ce n'è uno ce n'è uno ho chiaro a facciare uno sotto mi sa col c4 morto 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 è brecciato intanto mi fai il jammer mi fai il jammer doppio trophy doppio trophy doppio jammer eh morzi sotto mozzi sotto che si fa leo ho capito male è aula attatti zifor di mozzi attatti zifor l'avete distrutto il drone c'è un drone in kids lasciate il metro sotto in aula un jammer in trophy che l'ho fatto no sono due ma come dove l'altro ah aspetta ok uno è top white e uno è kids ok armory ancora clear lascia il drone qua guardo trophy 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 uno trophy uno kids uno top white e reach top white ma trophy dei botte io sono sul bridge eh eh ok puoi andare puoi andare al plant vai Rappo un altro attico un è attico un è attico attic vai il plant default porto l'altro sempre kids sempre kids buona 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 nice kill sdraiata meeting inga la faccio drono direttamente bedroom intanto buona bedroom my closet puliti guardo armory armory mozzi all'angolo all'angolo occhio ping 2 si sposta giocattivo ok te lo jingo leo te lo jingo e quando sei pronto e entri quando te lo chiamo te lo chiamo sull'angolo sempre sul box 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 ho fatto il drone mi ha fatto il drone porto jager buona 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 chi ne è così maybe uno kitchen timing di merda maybe uno kitchen timing di merda su main stick al drone split stick al drone split si ce l'ho uno zur uno main ha rotto il drone il mio spazio con lo split ho preso niente ma è arrivato ma è arrivato ma non ci credo due meeting si si meeting meeting sono in due kapkan e warden uno è entrato la undri nuovo 4 warden kapkan corridoio corridoio uno corridoio uno freezer si picca pillar sicuro c4 4 buono kapkan morto leo lancia un drone guarda scale guarda scale uno isa prima uno freezer lascialo qua io sono in là uno laundry leo c'hai un drone in main spostolo leggermente a sinistra un estanzino no non questo non questo hai ancora uno scelta uno in l'altro site non lo pingate the red the mess rotation fatto laundry e fridge arriva corridoio 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 non piccare non piccare il corridoio rotation rotation c'è la rotation no gioca passiva buona 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 nice goal sentito quando era già in split ah minchia la gente si arrende ancora ragà non facevamo abbandonare qualcuno per resa da un botto di tempo che è oh aspetta ma in che senso si possono arrendere in un secondo e mezzo eh beh magari era già in corso e hanno pigiato credibile raga non succedeva dal 15 18 ma è buona buona dai se mi dite come sentiva sto coso lo faccio eh lo stesso tasto comunque lanciato metal 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 vai vai ci sono ci sono ma che fanno morto sdraiato chi era? lesion lesion mattaruni mi sembra un po' esagerato le vertica che fa sta cosa comunque c4 c'è il drone drona ehi warden di mer possiamo andare a planta penso se uno ha il da la porta uno ha il da rotation c'è un altro trap vai vai lascia il drone lascia il drone ti chiamiamo rotation picca door sulla door door del sito ping 3 ti picca eh sulla rotation lo fate dalla botola comunque eh lascia 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 ti chiamiamo la rotation io ti ho chiusa a porta Raffaici a porta faccio rota io ti ho chiusa a porta io ti ho chiusa a porta è passato è passato buona 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 next call sta entrano drone oeste ha preso le valky cam ha preso le cam docca chiama nice occhio a vulgar un sissi un sissi tipo si docca docca sissi ma questo mio valky ha sempre ha rotto il cazzo era sulla porta o era già dentro sulla porta fuori fuori ah certo da dove ginga no? da est un altro wallbang mi ha fatto non c'è vede c4 docca è sul mio ora sta chiamato non ne ha più fatta hang in est ancora un'altra chiamata docca no non è più c'è la botola aperta eh eh sono tre sopra botola bagno botola bagno archivi su botola archivi non c'è nessuno un'arriva est uno est uno est chiamatemelo botola archivi per favore appena è pronto c'è un altro sulla botola c'è un altro è droppato l'altro l'altro è verso est eh solo close da me atrio ma hai droppato bagno uno ok ok l'ultimo è bagno eh close è sulla rotation abbiamo abbiamo gantiere ok solo gantiere abbiamo ma che fa ma che fa cosa che ha fatto e questo piccato di distanzione ho anche fatto il nut capito come se lo pusho certo certo si si main mi devo tenere main eh ce la provo io però jingano porta main uno è entrato in do canali eh uno do canali è entrato per cazzo porto uno main questo l'ho reclutato però uno passport è entrato lo canali è entrato passport scusatemi non doveva passport passport morto morto no no si ma c'è un altro mi sa si c'è un altro si si passport buono 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 non te lo ho chiamato scusami però è perché io da quest'anzino difendo entrambe le parti è più che altro perché lui se si mette in un angolo vede tutto site e non ti può muovere lo so è solo che lì ho dato per scontato che non dovesse ruotare ancora nessuno di voi in mezzo al round raffaele vorrei dire solo che certe cose non cambiano mai che mi carri ti amo cucciolo che si mette in un' angolo che si mette in un' angolo che si mette in un' angolo